Un invito ai cittadini di Brindisi a sostenere l'economia territoriale messa in ginocchio dall'emergenza sanitaria con una campagna di sensibilizzazione a favore degli operatori commerciali locali promossa dall'Associazione Pani e Pesci in vista degli acquisti natalizi e non solo. La richiesta è di non effettuare acquisti online e sostenere le attività locali come gesto di solidarietà per questo Natale. L'Associazione Pani e Pesci, che è un'associazione di ristoratori Brindisina, anche se non direttamente coinvolta in questo tipo di iniziativa che anzi sembrerebbe marginalmente coinvolta, ha promosso una campagna di sensibilizzazione per il boicottaggio dell'acquisto online. Fare gli acquisti in città significa sostenere la nostra pur fragilissima economia. Abbiamo bisogno che ognuno, ogni cittadino faccia la propria parte. Ma anche dal punto di vista meramente opportunistico, ogni cittadino all'interno dei nostri negozi, dei negozi della nostra città, effettivamente può acquistare in serenità, in sicurezza, soprattutto in sicurezza, con il consiglio, l'aiuto di chi ci lavora all'interno.